buona giornata buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 18 settembre 2023 iniziamo una settimana insieme leggeremo i giornali come sempre il resto del carlino il corriere adriatico sulle pagine locali ed ora passiamo alla previsione alle previsioni del tempo e al santo del giorno così come dicono come dice l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia san giuseppe da copertino un santo molto noto anche dalle nostre parti visse nel diciassettesimo secolo copertino si trova in puglia ma san giuseppe visse anche nelle marche infatti morì a osimo all'età di 61 anni dopo essersi privato di ogni comodità di ogni bene terreno e aver martirizzato il suo corpo con cilici penitenze e vie del genere spesso andava in estesi e san giuseppe da copertino è noto anche perché si elevava nei momenti di maggior concentrazione dal suolo e fu così che fu visto da tanti suoi fratelli da suoi frati insomma che erano con lui questo è san giuseppe da copertino vediamo le previsioni del tempo tempo stabile ma con una nuvolosità lo vediamo qui nella nella grafica ma con una nuvolosità medio alta in transito nel corso della giornata non ci dovrebbero essere non ci dovrebbe essere pioggia ma comunque il tempo è un po incerto venti moderati sulle coste da sud e nell'interno da nord est e le temperature sono ancora alte sono ancora estive 30 gradi la massima 20 gradi la minima al mattino fa un po freschino poi la temperatura si riscalda bene ci ho detto queste pro questa prolusione vediamo subito la prima pagina del resto del carlino nella edizione del lunedì concentriamoci sulle notizie di tutte le province delle marchie cominciamo da quella di pesaro vediamo che è stato scoperto un dipinto di raffaello così almeno si ipotizza sgarbi e non è d'accordo dice che è impossibile l'annuncio è stato dato in un incontro a pergola è una maddalena il capolavoro è costudito in una collezione privata da un francese prima era di un inglese comunque vedremo poi nelle pagine interne l'articolo non è pubblicato sulla sull'inserto marchigiano del resto del carlino ma sulla parte nazionale poi comunque la vedremo altri altre notizie che riguardano pesaro vediamo che ci sono ci sono ancora proteste da parte delle mamme per quanto riguarda la il problema di ginecologia di scusate di di pediatria di ostetricia e via dicendo mentre a pesaro si è tenuto un grande raduno degli appassionati della benelli il cui resoconto viene appunto annunciato in prima pagina vediamo in ancona dalle visite al recital l'anfiteatro ritrovato non solo un bellissimo contesto archeologico per quanto riguarda la ancona romana ma anche una nuova funzione per questo anfiteatro che può ospitare degli spettacoli teatrali di grande suggestione di quello con cui di quello di cui parliamo vediamo qui preziosi che ha fatto un bel recital e poi a pianello ragazzini nel mirino minacciate dai coetani per avere soldi un euro due euro comunque con minacce sempre una rapina incidente a mamma e figlio restano feriti nel tunnel a fiabilandia si stacca un impianto di illuminazione insomma queste questa piccola famigliola ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere ad ascoli e fermo ha avuto successo la gara di running sulla montagna dei fiori mentre a fermo porta di calcio si ribalta ferito un ragazzino alloggi popolari via i lavori ecco il piano comune erap le marche hanno sempre una così una situazione di allarme per quanto riguarda l'emergenza abitativa è l'era per sotto pressione da una parte non ci sono fondi dall'altra ci sono tantissime esigenze comunque il problema abitativo è un problema emergente a porto san giorgio sfugge alla madre e precipita dalla finestra purtroppo grave una bambina di quattro anni questo per quanto riguarda la provincia di ascoli e fermo vediamo quella di macerata l'università acquista l'ex sede di banchi italia per camere e uffici a cingoli ucraini in vetta al monte san vicino liberate i bimbi rapiti è una manifestazione che gli immigrati ucraini qui in italia fanno perché i bambini che sono stati portati via in maniera così barbara dall'ucraina in russia vengano restituiti alle famiglie a civita nova la polizia locale dà l'allarme sulle risorse solo 31 agenti un organico inferiore a quello che dovrebbe essere la dotazione per questa città un po insomma un problema che si propaga su tutte le marche ed ora apriamo il giornale vediamo le pagine interne e cominciamo subito dalla protesta delle mamme per quanto riguarda pediatria pediatria non si deve ridurre le mamme pesaresi non vogliono innanzitutto che venga accorpato tutto il reparto della città di fano e poi perché ci sono anche problemi per la persistenza della pala dell'uso della palazzina f l'assessore dice ci sono i lavori l'accorpamento del reparto insieme a quello di ostetricia sembra essere l'unica scelta attuata dall'azienda sanitaria territoriale secondo la regione vanno accelerati i tempi per dare avvio al nuovo ospedale di muraglia che poi risolverebbe tutti i problemi ma ormai l'ospedale di muraglia è in fieri da tantissimo tempo e ancora non si vedono atti esecutivi le mamme genitori pesaresi sono tornati in piazza davanti al teatro rossini per protestare contro il possibile accorpamento del reparto materno infantile del san salvatore lo avevano già fatto contro il possibile spostamento a fano ma ieri erano una settantina a chiedere risposte ogni volta ci rassicurano hanno dichiarato le mamme e subito dopo escono nuove voci dobbiamo mantenere l'attenzione sulla questione e fare capire che non ci facciamo prendere in giro lo dice debora bardeggia una delle mamme che ha presenziato a questa manifestazione le persone si sono sentite svencolate da ideali politici c'è chi la pensa da destra c'è chi la pensa da sinistra ma l'ospedale il tema dell'ospedale dei servizi ospedalieri specialmente come quello di pediatria è un tema che accomuna tutti ed ora diamo un'occhiata invece al raduno della benelli questa storica marca di motociclette che pur non producendo insomma come in passato ha ancora una grande una grande fama centinaia di motociclisti sono giunti a pesaro da diverse nazioni europee finlandia olanda germania inghilterra svizzera ed anche stati uniti e dagli stati uniti come tutti gli anni non è mancato anche nick pilota ex batterista di lisa minelli oggi organizzatore di eventi e influencer con oltre un milione e mezzo di mi piace e che ha ricevuto è stato ricevuto dal vice sindaco daniele vimini a cui è stata consegnata anche una targa con la nomina di ambasciatore negli stati uniti di pesaro ebbene c'erano delle moto storiche che fanno un po la gioia e anche le brezza di coloro che sono appassionati di motorismo c'era è anche presente eugenio lazzarini tre volte campioni del mondo con la 250 di kel curunters e quindi la 350 di renzo pasolini con in sello un meccanico mito come ivano balestrieri e quindi la 500 di arno sarinen guidata da enrico sorcinelli il nipote del compianto luciano battisti famiglia che la famiglia che ha tirato fuori dal museo alcuni dei suoi gioielli sapete come quelle museo aveva tante tante moto storiche insomma avevano veramente fatto un scrigno prezioso del motorismo pesarese ebbene al taglio del nastro di questa manifestazione davanti al motoclub anelli di viale mameli ieri mattina erano presenti anche quattro nipoti della famiglia storica della casa del leoncino chiara raffaella ilaria e cristina ebbene una manifestazione pesa insomma tra valentino rossi la benelli e tanti campioni che sono sorti grazie a questi a questa atmosfera così possiamo dire a una delle risorse accostate a quella della musica e a quella di rossini che fanno grande questa città vediamo ora la rapina la rapina che abbiamo menzionato rapina con il coltello alla farmacia mari razzia di soldi in cassa 500 euro un balordo forse un tossico dipendente ebbene ha rapinato la farmacia mari di via rosselli la quarta rapina in dieci anni ieri pomeriggio un uomo con il volto coperto e armato di coltello ha minacciato la farmacista facendosi consegnare tutto quello che c'era in cassa 500 euro poi si è allontanato tranquillo senza fretta come se avesse fatto la cosa più semplice e regolare di questo mondo ovviamente dopo è scattato l'allarme e ora gli inquirenti la polizia sta cercando appunto di individuare il rapinatore vediamo ancora alcuni titoli che riguardano pesaro viaggio anzi che riguardano fano in questo caso viaggio inclusivo a rasta la solidarietà oltre confine forse qualcuno avrà menzionato perché è un'iniziativa che viene dal passato sono tanti anni che si svolge questa iniziativa foresta nera mare blu sono due emblemi di due società il mare blu di fano la foresta nera di rastat in mezzo ci sono i disabili disabili che un anno vengono passano delle vacanze a fano quelli tedeschi e l'altro anno quelli fanesi passano le vacanze vedono questo meraviglioso territorio a rastat è un simbolo dell'amicizia che lega queste due città è uno degli gemellaggi più vecchi che si celebrano nella città di fano sono mai 25 anni che le due città hanno dato avvia ad uno scambio intenso di esperienze scambi culturali e sociali di rara efficacia ci sono anche delle dichiarazioni importanti che vengono fatte appunto perché questa è un'iniziativa che dà lustro ad entrambe la città foresta nera e mare blu per un nuovo scambo di esperienze di inclusione per le persone con disabilità così l'assessore dei servizi sociali di fano dimitri tinti ha salutato i partecipanti che sono partiti l'altro ieri in un bus alla volta di rastat ed ora passiamo in ancona vediamo come si parli dell'anfiteatro qui abbiamo delle foto suggestive di quello che rimane di questo reperto romano in cima al colle non molto lontano da san ciriaco l'anfiteatro ritrovato il recital di preziosi dopo 15 anni di nulla però è soltanto la prima quindi dovrebbe essere la prima di una serie di iniziative tanti sono stati gli anconetani che hanno partecipato a queste visite guidate e poi hanno assistito allo spettacolo serale dell'attore confermate tutte le potenzialità del sito archeologico chiuso da tempo ora dopo l'evento spot occorre dare continuità all'operazione insomma qual è quella città che ha un anfiteatro romano se lo tiene chiuso e non lo rende visitabile insomma credo che ce ne siano poche ancona finalmente ha capito che questa è un'attrazione importante per chi ama la storia per chi ama l'archeologia per chi ama la cultura in genere paura al parco di divertimenti fiabilandia si stacca luce e led mamma e figlio feriti nel tunnel i due che abitano nella provincia di ancona stavano percorrendo una bella domenica nella zona sotterranea di fabilandia ebbene era tutta crea era stata creata un'atmosfera da ricercatori di far west insomma sembrava di essere entrati in un set cinematografico quando però dal soffitto sono cascati delle luci e delle luci a led e hanno colpito le persone che erano di sotto una donna di 41 anni e il figlio di sette entrambi residenti in provincia di ancona sono finite al pronto soccorso dopo essere stati colpiti appunto da queste luci mentre passavano sui binari che attraversavano la miniera d'oro ovviamente ricostruita di questo paesaggio giocoso ed ora passiamo alla notizia del bullismo che è stato così che si è verificato a pianello bullismo ragazzini accerchiati minacci per avere soldi e ora di finirla di dire basta i genitori sono preoccupati dopo una lunga serie di episodi nella piazzetta del paese sono episodi minimi e non è che si crede si e pretendono grosse somme però dei ragazzi adulti che vanno da un bambino che ha in mano un euro e dice dacci quell'euro insomma è un episodio preoccupante la somma è minima ma questa prepotenza questa traccotanza deve scomparire dacci l'euro bambino ha spaventato ha dato i soldi è tornato indietro dalla mamma e ha detto tutto poi non è solo un caso che si è verificato ne sono stati altro altra volta hanno preteso due euro da un altro ragazzo quindi vedete sono somme minime ma l'atto estremamente estremamente grave vediamo ora l'articolo che riguardava la maddalena del perugino vediamo qua eccolo sulle quotidiano nazionale la maddalena è di raffaello ma c'è però chi dice no è è stata scoperta in una collezione privata un dipinto del 1504 secondo la studiosa di maria sarebbe del genio ovvero di raffaello sgarbi però smentisce insomma c'è questa contraddizione ebbene c'è stato un convegno a pergola a cui ha partecipato analisa di maria esperta di rinascimento delle opere di leonardo da vinci ha annunciato la sua scoperta effettuata con il contributo di altri studiosi per la parte scientifica c'era il professore merito jean-chac pomerol della sorbona e nel corso del convegno internazionale che aveva per tema la bellezza ideale la visione della perfezione di raffaello sanzio c'è un mondo da scoprire nelle opere di raffaello veramente ma secondo analisa di maria la donna ritratta in questo quadro sarebbe la moglie del perugino un dipinto eseguito nel 1504 su una tavola di piccole dimensioni 46 centimetri e 34 di larghezza questo studio corredato da analisi spettografiche sarà pubblicato sulla rivista scientifica open chance art con il titolo la maddalena di raffaello ovvero quando l'allievo supera il maestro a sostegno dell'ottribuzione che cosa ci sarebbe ebbene questa studiosa ha verificato l'utilizzo della tecnica dello spolvero per trasferire il disegno preparatorio impiegato da sempre da raffaello ma non dal perugino che è stata individuata questa tecnica da un'analisi di laboratorio e poi e poi la presenza di pentimenti e immateriali una preparazione del supporto con impasto di gesso colla colla animale strati a base di olio e biacca pigmenti come il verde grigio ocra e terre polveri di vetro pensate lacche utilizzate per gli smalti indispensabile nella creazione degli sfumati sono veramente tecniche segreti che ogni pittore dell'epoca ha sperimentato con nel corso della sua attività sarebbero questi gli elementi tipici appunto della produzione raffaellesca ma non di quella peruginesca che farebbero attribuire questo bellissimo ritratto a raffaello ebbene e ancora ne sentiremo parlare ed ora parliamo al corriere passiamo al corriere adriatico passiamo al corriere adriatico vediamo l'apertura su fano è dedicata all'azienda all'azienda del che dovrebbe sostituire il l'ambito sociale per l'asp servono sempre partecipazione e consenso abbiamo qui una specie di intervista non c'è domande risposte però insomma le dichiarazioni ci sono parla franco pesaresi che è il direttore dell'azienda di servizi alla persona di Iesi è una persona che ha esperienza che ha veramente operato sul campo e conosce sia da una parte le disponibilità e dall'altro le necessità franco pesaresi ha così ideato un modello apripista nelle marche che l'ambito territoriale sociale 6 si appresta a seguire non però senza forti contrarietà da parte delle associazioni del terzo settore che non vedono bene queste trasformazioni così insomma ideate a tavolino pesarese però premette una cosa fondamentale un'azienda per i servizi alla persona dice ha bisogno di grande partecipazione e grande consenso e chi lo può negare ne ha bisogno sempre fin dal primo momento e non soltanto oggi oppure in futuro è indispensabile che ognuno si senta come a casa propria perché è una garanzia di successo e di continuità quindi di sviluppo quindi sono delle premesse fondamentali vediamo ora una bella iniziativa un docufilm sul carnevale commissionato al regista andrea lodovichetti e l'autore di una delle più belle dei più bei docufilm che si sono stati prodotti nel nostro territorio pesca mare che è stato segnalato e ha vinto anche una ventina di premi nei concorsi internazionali il comune finanzia quest'idea di un docufilm sul carnevale che potrebbe essere un mezzo di promozione turistica veramente formidabile con 30 mila euro l'idea ovviamente della carnevalesca la collaborazione e con andrea lodovichetti e a proposito di sociale vediamo che è stata inaugurata la casa sull'isola a fenile per l'autonomia dei disabili uno spazio inaugurato sopra un centro per l'inclusione lavorativa la casa sull'isola è stato predisposto al primo piano dell'edificio dell'area della fondazione cante di monte vecchio dove già appunto il servizio dove la cooperativa opera un luogo molto accogliente così fatto dal presidente della fondazione cante di monte vecchio gianfranco mazzanti dove sono già stati predisposti alcuni corsi di attività creative e informatiche appunto dalla cooperativa a cui mazzanti ha dato in uso la l'edificio della fondazione vediamo la pagina della val cesano dove a mondavio si parla di rifiuti ci sono grosse innovative in corso strategia rifiuti zero al via lo scopo è ridurre gli scarti mondavio è il primo comune della provincia ad aderire e qui abbiamo la relazione di bigelli si tratta della strategia rifiuti zero l'amministrazione spiega appunto sauro bigelli che il consigliere comunale intende promuovere il salto culturale nella gestione della strategia primo è quello di ridurre meno rifiuti poi è quello di incrementare la raccolta differenziata passando all'attuale percentuale all'85 per cento e ancora a destituire appena possibile un sistema tarifario che tenga conto almeno in parte nei vincoli previsti dalla normativa di settore dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti delle utenze domestiche ovvero la cosiddetta tariffa puntuale passiamo ora a senigallia spiagge libere attrezzate in autunno ancora dura l'estate quindi anche le spiagge sono ancora non dico affollate come agosto però sono una meta ancora raggiungibile da tanti turisti ma anche da tanti cittadini finché dura il sole noi resistiamo docce e box avanti fino a ottobre l'assessore campagnolo ecco come destagionalizzare ed ora siamo vicini alla conclusione per cui diamo un'occhiata anche alle pagine dello sport vediamo che le cose non vanno molto bene per la vispesaro carrara è da cancellare con l'entella per la svolta insomma le prime partite non sono state entusiasmante per i bianco rossi zero gol e zero punti in tre partite ma sabato c'è stato anche un calo di qualità e questa è la cosa insomma più preoccupante invece va molto bene per il fano calcio però ci sono dei problemi all'orizzonte vediamo un doppio gonzales fano si prende il derby con il fosso ombrone però c'è il caso rigioni e il fosso fa ricorso che cos'è il caso rigioni ebbene il fano ha schierato rigioni peraltro un ex nella scorsa stagione era stato squalificato durante i playoff disputati dagli uomini di fucili rigioni ha giocato anche la prima giornata fanno vasto girardi ma il club molisano non ha presentato ricorso il fosso ombrone salvo sorprese invece lo farà questo per quanto riguarda il problema che incombe su questa partita partita che però sul campo è stata vinta per due a zero da granata e c'è anche il commento ovviamente di scorsini e discorsini il l'allenatore della del fano calcio gran partenza ce la godiamo dice scorsini fucili invece con un così un'esortazione di prammatica dice bravi tutti vigor senigallia un pari show emozioni a non fanire a non finire con il notaresco finisce 4 a 4 notaresco 4 vigor senigallia 4 la partita che senigallia ha giocato fuori casa vediamo ancora altre partite e qui urbino vino ecco urbino questa qua sartori non sbaglia resta condannata su regore urbino 1 macerata 0 partita d'alta intensità tra due ottime formazioni l'episodio decisivo si è verificato al trentunesimo ancora la civita novese che colpo becker manda k o l'osimana un gol da attaccante di razza regala la vittoria alla civita novese fuori casa osimana 0 civita novese 1 e questa era l'ultima notizia chiudiamo i giornali io vi do appuntamento a domani alle ore 7 e poi per tutta la settimana grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti